Ogni giorno le uova extra fresche di Centrale fanno il check-up completo. Ecco perché sono extra sicure. Centrale del latte di Brescia presenta Meteo TeleTutto. Le previsioni del tempo per Brescia e provincia. In collaborazione con Maniva Schi e Locanda Bonardi. Le previsioni del tempo per le prossime ore. Di notte in prevalenza poco nuvoloso, con possibili addensamenti solo su Val Camonica e Lago Odiseo. Non si esclude qualche raro piovasco sui rilievi camuni. In mattinata graduale aumento della nuvolosità, con primi rovesci su Val Camonica e Prealpi. Temperature minime in lieve aumento. Dal pomeriggio di domani nuvoloso, molto nuvoloso. In alternanza schiarite e assolate, più frequenti in pianura e sul basso Garda. Rovesci o temporali sparsi in estensione, a sera dalla Val Camonica verso la pianura e il Garda. Temperature massime in diminuzione, più sensibile sulle valle. Ora la tendenza per sabato 6 agosto. Da prima molto nuvoloso, con piogge intermittenti e utemporali, che tenderanno gradualmente ad esaurirsi nel corso della mattinata. Parziali schiarite in pianura, dal pomeriggio spiccata variabilità. Ancora alcune piogge o rovesci sulle valli e sul Garda. Temperature in lieve calo nei minimi. Stazionarie nei massimi. Le previsioni sono a cura di Massimo Mazzoleni, in collaborazione con Meteo Passione e Centro Meteo Lombardo. Centrale del Latte di Brescia ha presentato Meteo Teletutto. Le previsioni del tempo per Brescia e provincia. In collaborazione con Maniva Schi e Locanda Bonardi.